Il posto più strano dove lo hai fatto? Anche io. C'erano una volta due amici che, non avendo nulla da fare, fecero un video di un'intervista doppia. Nome. Ah, comincio io? Sì. Ok, rifacciamolo. Nome. Alessia. Simone. Cognome. Lanza. Berlini. Soprannome. Alle medi mi chiamavano Ale Ale. Berlins, Berla, Mille. Berla. Quando sei nato? 12 giugno 2000. 16 maggio 2000. Dove? Torino. Napoli. Fratelli o sorelle? Ho un fratello. Io ho una sorella più piccola, un fratello più piccolo, un fratellastro, una sorellastra e un cane. Che lavoro fai? Lavoro sui social. Creator. Lavoro sui social e ho delle attività. Titolo di studio? Segretario d'azienda. Ragioneria con indirizzo internazionale e non so se vale ma ho il primo anno in università. Io ho due mesi. Io ho due esami. Tre aggettivi per definirti? Solare, maniaca del controllo, permalosa. Simpatico. Solare, umile. Ma come l'hai detto si capiscono tante cose. Tre aggettivi per definire l'altro? Umile, disponibile e un po' gagagacci. Una pezza di guayona, determinata, bipolare. Ok. Cosa cambieresti di te? Alcuni lati caratteriali. Il fatto che a volte sono troppo buono e non riesco a essere un po' stronza. Cosa cambieresti dell'altro? No, no, sto pensando tra le tante cose, Simone. Ah, ok. Sì, insomma, va bene tutto, però. Le frasi che usa ripetizione. Cioè, sempre le stesse. Ma non posso dire neanche quali. Perciò... Ah, i piedi. Simone. Esco adesso, certo? Dai, dai, dai. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo. Vaffanbrodo. Non è vero. No, dai, Sì. La prima cosa che avete pensato dell'altro? Che fosse un bel ragazzo. Minchia. Ma per la mamma? Ah, capibile. Bevi alcolici? Pochissimo. È da un mese e mezzo che non bevo alcolici, però sono veneto. Sei religioso? No, però credo in certe filosofie. Sono veneto. Da 1 a 10 quanto contano per te soldi? Sette. Otto e mezzo. Amici? Nove. Dieci. Amore? Otto. Cos'è? Essere alla moda? Sette e mezzo. Otto. Social? Nove. Otto e mezzo. Canzone preferita? No, è possibile. Non ce l'ho, no, non ce l'ho. No, mi rifiuto di rispondere. Lose Yourself di Eminem. Cibo preferito? Lasagna. Cioè, ora che sono a dieta, a volte ho proprio voglia di mangiare una bella pizza. Ti piace leggere? Non troppo, preferisco i film. Dipende cosa, c'è le cose che mi interessano sì, però preferisco guardare. Serie tv preferita? How I Met Your Mother, Friance e Modern Family, tutti a primo livello. La Casa dei Pappelli? Guardi anime? No. Molto più delle serie tv. Ti piace Harry Potter? Allora, non è che non mi piace, ma non li ho mai visti tutti. L'ho fatto vedere io per la prima volta di quei primi due episodi. Ultima volta che hai pianto? La scorsa settimana. Davanti a Simone e in cielo! Qualche mese fa. E non per un video. Hai mai mentito sulla tua età? Sì. In discoteca? Io per fingermi più piccola. Io per tutte e due. Ok. Cosa ti penti di aver fatto? Non lo so, non lo so, passo! Sesso. Cosa che non ti penti di aver fatto? Tutto. Nel male e nel bene sono appuntate di aver fatto tutto. Venire a Milano. Parliamo di amore, orientamento sessuale. Mi astengo dalla risposta. Etero. Situazione sentimentale? Single. Mai stato più single e non sono neanche in cerca. Sei mai stato innamorato? Sì. Sì? E ora? No. Proprio vorrei. Sei geloso? Un po' ma non lo dimostro. Io tantissimo e lo dimostro. Le prime tre cose che guardi in un ragazzo o ragazza? Il sorriso, le mani, gli occhi. Basta, sono tre. Sto vedendo qualcosa di più... Anche il sedere è importante in un ragazzo per me. Cioè, fa ridere. Ti dici, ammazza. Io ho un gran culo. Il sorriso, gli occhi, che non devono essere di un colore particolare, ma devono tipo essere magnetici. O le tette su le tette. Oh, Gesù. Ma tu hai detto il culo e parli! Però come... Il mio era... Il tuo è proprio una caratteristica fondamentale. Ma no, ho detto che è fondamentale. Ok, ok. Che sono una stessa valenza, ma non grandi o piccole. È giusto. Ok. È giusto. E poi se... Cioè, non è la cosa più... È giusto così. Io non giudico te, tu non giudichi me. Il posto più strano dove lo hai fatto? In un... In uno sconto della spazzatura? Come si diceva? Non dentro. In una stanza dove si buttava la spazzatura. Anche io. Ma non eravamo insieme. Qui è un posto conosciuto. Ok, ragazzi. La prossima. Impossibile. Non esiste proprio. Impossibile. Le tira un pugno. Ma Simone! Sto scherzando. Ora, il più bello? Io. Dai. No, non è vero. Così sembra cattivo. Simpatico? Io. Io. No. Io. Se piacerebbe... Sì, vabbè. Disordinato. Simone. Forse è pari merito. Pari merito. Bisogna essere giusti. Puzzolente. Alessia. Ma non scherzare. Alessia! Sì, vabbè. E perché è diventato un meme. Ma è vero. Bravo in cucina. Io. Lei. Responsabile. Io. Ma non ti ci puoi mai. Lei, lei, lei. Sì, lei. Bipolare. Simone. Sono sempre io. Lei. Imitate l'altro. Io non posso essere imitato. O cucina le sue cose salutari. Raga, non toccate... Messaggio. Raga, non toccate la mia roba salutare nel frigo. Perché... Che ha mangiato? Chi ha visto questo? Qualcuno mi ha a riscaldare uno. Qualcuno mi ha a riscaldare due. Qualcuno... Che squadra tipi? Inter. Milan. Social preferito? Twitter. Fornò. Ti piacciono i bambini? Sì. Cioè, ci sono, passano momenti in cui ne vorrei uno, tantissimo. Non vorrei averne mai uno perché credo che potrei lanciarle alla finestra. Vorresti averli? Assolutamente sì. Otto. Spagnolo o francese? Francese. Spagnolo. Tè al limone o pesca? Limone. Pesca. Hai mai fatto pipì in piscina? Sì. Non solo. Città preferita? New York. Londra. Viaggio che vorresti fare? Madagascar. Albania. Ti piace guidare? Sì. Molto. Come guidi? Benino. Simone. Oh! Cosa? Un po' di voi. Rispondi alla tua domanda. Benissimo. Come guida l'altro? Otto, Simone. Fai molta attenzione a come rispondi. Due. Due? No, dai, no, no, no. Cinque. Hai mai preso una multa? È stata un anno fa. Allora, ultima e unica multa che io abbia mai preso. Ho lasciato una Sarnao sulla riga dei taxi. Cioè, non trovo parcheggio e l'ho messa a cerco. L'altro ieri. Perché sono andato in statiele? Punti sulla patente. Tutti? Tre. Che sono sincera. Tre. Oh, mamma mia. E ho dovuto pagare tipo il doppio una multa perché se no mi ritiravano la patente. Non voglio sapere niente. Una multa che mi è arrivata da 1000 euro. Ti ricordi? Sì. Hai mai rubato? Sicuramente sì. Cioè, banalmente a otto anni ho rubato i vestiti delle barbie delle mie amiche e non mi portavo a casa. Allora, proprio dobbiamo essere sinceri. Sì, da piccolo un cartello stradale. Cioè, tutto il palo. Preso insufficienze a scuola? Sì. E come? Sì. Marinato la scuola? Marinato. Da me si dice... Balsato. No, tagliare. Ho tagliato, sì. Tutti i sabati. Fumato? Sì. Che cosa? Mi astengo. Sì. Fatto a botte? Seriamente no. Per gioco sì. È successo. Solo per autodifesa. Fatto una cosa a tre? No. Sei mai stato in tv? Sì. Sì. Hai mai mangiato cibo per cani? Sì, ero curioso. No, non sono stupida. Hai mai litigato con qualcuno pur sapendo di avere torto marcio? Non amo litigare in sé. Però se ho torto lo dico. Cioè, ormai non c'è di... Vabbè, ragione. Basta. Ho torto io fine. Sì. Hai mai guardato di nascosto il cellulare del tuo partner? Certo. Io no. Hai mai fatto una pazzia per amore? Sì. Troppe, me ne prento. Hai mai mentito alla polizia? Mio padre vale? Sì. Hai mai sparato con una pistola? Sì. Vabbè, era un fucile, però sì. Ora, pro o contro? Adozioni gay? Pro. Pro. Legalizzazione droghe leggere? Pro. Pro. Chirurgia estetica? Pro, sono stata con coscienza. Pro, la vita è tua. Ti hanno mai picchiato? Sì, io, Simone, con tutte le domande che mi hai scritto. Per gioco sì. Sì. Persona che stimi? Giuseppe Greco. Bagus dei Mates. Un coglione invece? Convivenza o matrimonio? Matrimonio. Matrimonio. La terra è piatta? No. No. Siamo soli nell'universo? No. No. Come ti vedi fra dieci anni? Mi auguro con una famiglia, quindi dei figli e una carriera alla stragrande. Ancora single e in cerca di una donna. Ringraziate qualcuno che vi è stato vicino? Ringrazio la mia compagna di stanza. Mio padre che è stata l'unica persona che ha sempre creduto in me. Salutatevi. Ciao 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 ciao. Grazie so much. You're welcome. Don't worry. Don't worry. Nice to meet you, cucciola. No. Cucciola no. Mandatevi a quel paese. Vai a stendere, Simone. Tira il dito. No. Alessia, tireresti un pugno a Simone? Sulla spalla. Io sì. Simone, tireresti un pugno ad Alessia? Ovviamente no. Prego, Simo. Grazie a tutti.